Presidente, il disegno di legge 488, conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 9 maggio 2018, numero 44, recante misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,139 della legge 27 dicembre 2017, numero 205, nonché per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendale, approvato dalla Camera dei Deputati, consente per il 2018 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Tali aree sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. Al riguardo si precisa che la complessità può derivare o da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione, con effetti sull'indotto, o da gravi crisi di uno specifico settore industriale, con elevata specializzazione sul territorio. In tali aree, l'articolo 44,11 bis del decreto legislativo 148 del 2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa per il bienio 2016-2017 e dentro il limite di determinate risorse. Successivamente la legge 205 del 2017 ha previsto l'utilizzo delle richiamate risorse non utilizzate nel bienio 2016-2017 anche nel 2018, in particolare l'articolo 1,139, nonché la facoltà per le regioni di prorogare specifici trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, l'articolo 1,145. Si evidenzia in particolare che, con il provvedimento in esame, in primo luogo si aggiungono alle risorse finanziarie nel 2018 per i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari in deroga e di mobilità in deroga per le richiamate aree esensi dell'articolo 1,139 della legge 205 del 2017, ulteriori 9 milioni di euro per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna. Articolo 1,1. A tali oneri si provvede con il Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18,1 lettera del Decreto Legge 185 del 2008, in particolare articolo 1,2. Pertanto il disegno di legge in esame reca alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed in particolare si compone di tre articoli. In riferimento all'articolo 1 ricordo che per la regione Sardegna sono riconosciute aree di crisi industriale complessa quella del polo industriale di Porto Vesme e quella di Porto Torres. È pertanto necessario procedere ad un ulteriore finanziamento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga nelle suddette aree, in quanto per la regione Sardegna le risorse stanziate risultano insufficienti a garantire gli obiettivi programmati. Per assicurare la prosecuzione per ulteriori sei mesi di trattamenti di mobilità in deroga, in scadenza il 30 giugno 2018, per una platea di mille lavoratori. Sono appunto stanziati 9 milioni di euro per il 2018 a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione. Il successivo articolo 2 opera un chiarimento riguardo al finanziamento delle proroghe di trattamenti di cassa integrazione e guadagni in deroga adottate dalle regioni entro il 2017, ai sensi dell'articolo 1,145 della legge 27 dicembre 2017, numero 205. Tale chiarimento si rende necessario per superare difficoltà applicative derivanti dalla formulazione fino ad ora vigente che potrebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni di fatto identiche. La novella specifica inoltre che il finanziamento è ammesso anche per i casi in cui le regioni abbiano adottato la proroga dopo il 31 dicembre 2016, purché essa riguardi trattamenti in scadenza entro quest'ultima data. Resta fermo che la durata della proroga non può superare il limite del 31 dicembre 2017. Ricordo a tal proposito che, ai sensi del citato comma 145, le proroghe potevano essere adottate dalle regioni per un periodo massimo di 12 mesi al fine del completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni. L'articolo 3 reca l'entrata in vigore. Da ultimo faccio osservare che nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati è stata operata solo una riformulazione tecnica del comma 1 dell'articolo 1, al fine di chiarire che lo stanziamento previsto è posto con riferimento all'anno 2018. Ricordo inoltre che il decreto in esame è stato calendarizzato in aula proprio questa settimana, poiché, attenzione, i termini per la conversione in legge scadono domenica 8 luglio. Inoltre sottolineo che ciascun gruppo ha espresso il parere favorevole al provvedimento seppur con delle proprie motivazioni e che il Governo si è impegnato nell'accogliere diversi ordini del giorno, i cui contenuti stanno a cuore anche alla maggioranza. Pertanto, Presidente e colleghi, auspico pertanto una felice propensione al fare che si concretizzi in un esame rapido del provvedimento presso quest'Aula, trattandosi appunto di una proroga di interventi già in essere e, ripeto, unanimemente condiviso da tutti i gruppi. Presidente, ho terminato la mia relazione. Ringrazio.